Secchi che una volta tagliati diventano scultura, attaccapanni che si fanno dialogici, forme tridimensionali che ci invadono, giochi di luce che si scompongono, igni all'equilibrio, orologi che sfidano lo spazio, cilindri che uniscono le forze per farsi triangolari. Fondazione Morandini inaugura una mostra composita con dieci grandi nomi pronti a esporre l'innovativo concetto di una quotidianità capace di trasformarsi, creando nuove geometrie al servizio del colore, dello sguardo e dell'ambiente. Sono estremamente importanti nel campo europeo e fanno vedere quanto sia straordinaria la geometria. Loro operano nell'arte concreta, non solo, però fanno vedere quanto la geometria e la base della geometria è moderna e sarà sempre valida, viva e necessaria, soprattutto nelle scuole, soprattutto nella didattica ovviamente, ma anche, come si può vedere nei lavori qui esposti, nella percepire nuove idee di cose che già conosciamo.